Siamo a Hobby Show in compagnia di Roberta De Marchi, attività Roberta De Marchi, il nome della società. Che cosa voi proponete qui in fiera? Noi proponiamo dei corsi di patchwork, delle dimostrazioni gratuite dove facciamo vedere delle tecniche particolari anche per i neofiti, quindi chiunque si può avvicinare partendo da un minimo di base. Noi siamo specializzati in tessuti provenienti da tutto il mondo e tutti i complementi e tutti gli embleachments che vanno dietro ai tessuti, quindi tutto quello che segue l'attività del cucito. Poi c'è anche editoria specializzata per poter realizzare anche a casa per gli autodidatti quello che vogliono. Ecco il patchwork, chi si avvicina a questa attività? Prevalentemente donne ovviamente, abbiamo anche qualche maschio ma relativamente pochi. Prima erano signore solo di una certa età, adesso si è abbassato il target e la forbice si è aperta, quindi persone di tutte le età, dai 25 ai 75 anni. Chiaramente con dei tempi di realizzo differenti perché la signora che sta a casa magari ci mette un po' di meno a realizzare le cose perché ha più tempo a disposizione. La ragazza che lavora magari ci impiega un attimino di più però. Ecco i corsi si svolgono nella vostra sede? Sì, o nella nostra sede o noi usciamo e andiamo presso il cliente. E per quanto riguarda l'editoria dicevi che ci sono giornali, riviste e a vostra cura? Sì, noi abbiamo editoria proveniente da tutto il mondo, quindi Giappone, Francia, America, Inghilterra, alcuni in madrelingua, qualcosa viene tradotto ma relativamente poco. Noi speriamo entro il prossimo anno di pubblicare dei libri sia di patchwork base che di patchwork avanzato che anche di complementi, quindi bambole, pupazzi e tutto quanto ne consegue. Avremmo un progetto che è quello di pubblicare anche dei video in modo tale che la signora da casa possa scaricarsi il video e passo passo vedendo riesca a lavorare meglio perché magari solo con delle foto statiche uno si sente un minimo in difficoltà. Certo, per cui un corso diciamo supportato dalle immagini anziché venire direttamente nella vostra sede potrebbero fare da casa. Ecco l'editoria, come un cliente, come un potenziale vostro cliente vi può raggiungere tramite che cosa? Tramite il nostro sito internet che è www.robertademarchi.com oppure venendo nel nostro negozio di Merate. Quali sono le prospettive per il vostro tipo di mercato? Il nostro mercato è un mercato in crescita, perlomeno il mio mercato, poi i miei colleghi io non lo so, quindi io ho un mercato in crescita, non ha assolutamente risentito della crisi, anzi noi vorremmo aprire anche un altro negozio nella città di Milano perché magari da Milano uscendo verso la periferia uno ha delle difficoltà mentre dentro Milano non ci sono negozi di altissimo livello specializzati e quindi cerchiamo di dare un supporto anche al cittadino che comunque si muove con i mezzi. Ma i vostri tessuti sono soltanto per il patchwork o possono essere utilizzati anche per altri scopi? No, noi con questi tessuti realizziamo abbigliamento, decorazioni per la casa, tende, facciamo anche tutto quanto riguarda la confezione del bambino quindi culle, cose per le nascite o le confezioniamo noi oppure diamo tutto il supporto perché le mamme o le nonne se lo possano confezionare a casa anche i set d'asilo, qualsiasi cosa che riguarda la persona.